Sono migliori gli infissi in pvc o gli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi del 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Per rispondere a questa domanda dovrai vedere prima di tutto il tuo progetto, quindi le dimensioni, come sono esposte le finestre, quindi i punti cardinale, e dovrai chiederti quali sono le tue priorità. Ad esempio se è l'isolamento termico, se è l'acustica, se è la luminosità, se è la sicurezza anti-effrazione. Ci sono tante cose che, a seconda delle tue risposte, vanno poi a farmi preferire di consigliarti un infisso in pvc piuttosto che un infisso in alluminio. È un po' come l'esempio che faccio sempre nel mondo delle auto. Non è che è meglio una cabrio o è meglio una SUV, dipende dalle tue esigenze se hai una seconda macchina, in quanti siete in famiglia, il tipo di strada, se ti serve 4x4, se non ti interessa niente. Quindi anche negli infissi non esiste questo limite netto tra infisso in pvc e infisso in alluminio. Di base l'infisso in pvc è un infisso che se non ha dimensioni molto grandi può funzionare, può costare meno inizialmente. Un sermento in alluminio è un sermento che ha più resistenza nel tempo e anche più resistenza meccanica che mi permette di fare aperture più grandi. Un profilo in pvc è più caldo al tatto, un alluminio rimane più freddo, ma è solamente una sensazione, perché se vado a guardare la prestazione termica di un buon infisso in pvc e un buon infisso in alluminio sono abbastanza simili come valori, anche perché un infisso con un vetro fatto come si deve e la parte predominante è il vetro, con la cannellina termica, con il gas argon, magari ho 2 metri quadrati di vetro e 0-25 metri quadrati di profilo, termico nel caso dell'alluminio e il pvc invece è già termico di suo, capisci che le prestazioni sono abbastanza simili. Poi subentra la durata nel tempo, la manutenzione e in queste cose un materiale è meglio dell'altro. Quindi per arrivare a rispondere alla tua domanda è importante fare una consulenza. Capisco che fare questa consulenza con chi ti deve vendere le finestre è veramente molto difficile perché c'è un conflitto di interesse troppo grande, ma se abiti lontano dalla Bisacchi e non ti possiamo servire direttamente con la vendita degli infissi, puoi approfittare del servizio di consulenza che abbiamo messo a disposizione proprio in questi casi. Per saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. La faremo direttamente io e te in videotelefonata. Ciao e al prossimo video! Grazie!